Il contratto di cui nessuno sa nulla a Palazzo, nemmeno la diretta interessata, la determina del settore cultura in questione è stata pubblicata sul sito del Comune di Lecce lo scorso 7 agosto ed è visibile sino al 21 dello stesso mese, sebbene l'atto sia un po' datato e risalga a marzo. La determina riguarda il compenso a Carla Guido, direttore artistico della stagione di Prosa 2011-2012. Per questa funzione, cioè cura degli eventi sia estivi che invernali, essendo che il contratto copre 365 giorni, viene corrisposto alla dottoressa Guido un compenso di 12.000 euro lordi, come deciso in giunta il 23.12.2010. Accade però che nella seduta di governo cittadino del 9 febbraio 2012 si conferma l'incarico annuale da 12.000 euro, estendendo lo stesso alle altre attività da realizzarsi nel corso dell'anno. In particolare, si legge, per gli eventi di teatro a 99 centesimi, teatro in jeans e rassegna estiva, vengono previsti altri 12.000 euro, per un totale di 24.000 euro. Per capire i motivi che hanno indotto il comune di Lecce a stanziare altri 12.000 euro per rassegne che di per sé dovrebbero rientrare nel contratto da 12.000 euro della dottoressa Guido, abbiamo contattato sia il dirigente del settore cultura, Nini Elia, il quale ha risposto di non essere in ufficio ma in ferie. L'attuale assessore Gigi Coclite invece ha chiarito che a marzo scorso era la guida della nona, quindi non c'è stato d'aiuto. L'ex assessore Massimo Alfarano risulta irraggiungibile. La diretta interessata invece, la dottoressa Carla Guido, ha dichiarato di dover leggere prima le carte per poi rispondere alle nostre domande. Noi sulla questione torneremo a chieder conto all'amministrazione comunale, dando la possibilità di replica e chiarimento ai diretti interessati. Grazie a tutti.